Paesaggi marini, scene di vita quotidiana dal sapore antico, quartieri ora scomparsi che continuano a vivere riprodotti dal pennello di Giovanni Crisci, artista palermitano che da sempre si dedica a rappresentare il paesaggio della sua Sicilia. Colori caldi e vividi, sapienti ombreggiature creano un'atmosfera tipicamente isolana nelle tele di Crisci, esposte per la prima volta a Capodorlando alla biblioteca comunale di Figlia del Fanciullo fino all'8 settembre. Il Patriotolio è ispirato ai nostri paesaggi siciliani soprattutto e le marinelle nei contorni di Palermo. Nelle sue tele Giovanni Crisci, artista schivo e con un amore per l'arte e le cose belle che emerge guardando i suoi lavori, dimostra il suo immenso amore per la sua terra. Ama soprattutto i paesaggi marini e il suo soggiorno a Capodorlando potrà ispirargli nuovi lavori. Grazie. Grazie.